Per il 28esimo turno tutti gli occhi saranno puntati sui campionati di eccellenza e promozione a causa della pausa della Serie D. L'ultima giornata ha regalato diversi sorrisi alle migliori squadre del massimo campionato, ma il bello del calcio però è proprio questo. Non c'è il tempo di gioire, al contrario di disperarsi, che arriva immediatamente un'altra occasione per cambiare le cose. Si fa ardo alla scalata alla Serie D per il Treppini, che deve assorbire in fretta il K.O. con la gioventù Dauna. Per il team di Morra, domani ci sarà una trasferta nella vicina Venafro con l'obiettivo di riportarsi sotto la Dauna. I biancoverdi, infatti, arriveranno al Marchese Le Prete con l'intenzione di vendere ancora cara la pelle. Il Venafro, dal canto suo, cercherà di approfittare della sosta della capolista per sorpassarla. Un sorpasso in ogni caso momentaneo, considerando che poi toccherà anche ai bianconeri riposare il 3 aprile. Direttore dei 90 minuti, l'area Bianchini di Termoli. Dopo il poker in esterna con la cliternina, il Vasso Girardi attende al Ditella il Pietra Montecorvino, nuovo importante bivio e salvezza per i rossoneri. Il Vasso Girardi è reduce dalla gara di andata dei quarti di Coppa Italia, il ritorno al Ditella mercoledì prossimo. Ma oggi testa il campionato per la squadra giallo-blu. Vasso Girardi-Pietra Montecorvino sarà diretta dal signor Cosimo delle Carpini della sezione di Sernia. Dopo un digiuno di punti durato ben due mesi e mezzo, il Termoli di Paolo Di Lena è tornato a muovere la classifica, grazie al pareggio con l'Olimpia Riccia tra le muramiche. Ancora non basta però per dormire sonni tranquilli. La società giallorossa sarà chiamata domani al difficile esame con la Lifi allo stadio Mario Spinelli. I padroni di casa, a causa della sconfitta con il sesso campano, vedono ora compromesse le proprie chance di puntare ai play-off. Arbitro del match, Domenico Petraglioni di Campobasso. Per il comprensorio Vairano alla ricerca di tre punti fondamentali per uscire dalla zona play-out, il prossimo appuntamento sarà a domicilio contro il Macchia, chiamato a vincere. Arbitro dell'incontro, Fabrizio Saluppo della sezione di Campobasso. Non se la sta passando molto bene il Rocca Ravindola, reduce da tre turni massacranti, rispettivamente con Venafro, Gioventù Dauna e Treppini Sport in Matese, le prime tre della classe. Domani, per i blu cerchiati, ci sarà un match sulla carta fattibile, la trasferta nel capoluogo di Regione in casa di un Campobasso 19-19 con un piedi e fuori dalla zona play-out. Marco Vasile della sezione di Sernia condurrà la partita. È il turno dei quattro anticipi anche nella cadetteria regionale. Per il rosetto, domani è prevista la trasferta in casa di un Boise Yelsey Meta Zilembo che in quest'ultimo weekend ha osservato il secondo ed ultimo turno di riposo. I ragazzi di Figliola, ad un passo alla zona play-off, proveranno a fare lo sgambetto agli avversari per portare la vittoria a casa. Direttore della sfida, Marco Aurisano, di Campobasso. Punti pesantissimi in palio nella gara di bassa classifica tra calcio petacciato e Real San Martino. Il petacciato è tornato ad imporsi dopo due K.O. infliggiando il secondo stop in successione ad un Castelmauro ormai proiettato sui play-out. I sanmartinesi, con il morale a terra, sono stati costretti a subire il quarto K.O. di fila, l'ultimo con la capolista Lupetti Guglionesi. Insomma, una squadra scottata che non vuole sbagliare. Petacciato e Real San Martino sarà arbitrata da Michele Matarese di Termoli. L'FVP Matese, reduce dalla battuta d'arresto con il Rosetto, che ha spezzato un periodo favoloso a livelli di risultati, proverà a reagire ospitando tra le mura di casa un campo di pietra determinato a portare la vittoria a casa per superare la vice capolista Frentania. Agostino De Santis di Campobasso l'arbitro. Infine, prosegue il cammino della Santeliana, che nell'ultimo turno si è imposta nettamente sul cerce maggiore sconfiggiandolo 5-2. Per il team di Cordone, ora è forte la volontà di chiudere definitivamente il discorso salvezza e fare un pensiero anche ai play-off con la sfida di domani a Sant'Angelo D'Alife contro il fanalino di Coda Carullo. La gara sarà disputata da Andrea Salanitro della sezione di Campobasso.